Allora facciamo gli ultimi saluti. Voglio salutare tutti gli ospiti che sono intervenuti in queste quattro trasmissioni. Allora facciamo un saluto agli attori e artisti. Alfredo Libassi da Palermo, Michele Guarino, Antony Galozzi e Giussi Fortunato, Antonio Alfano con la figlia Emanuela, l'impresario Nicola Cuoco, Tuccio D'Amico dalla Svizzera che ha detto che in autunno sarà qui con noi. Va benissimo. Allora, dove sta Nino? L'ha preso il microfono Nino? Bravo Nino. Lori Loffrito, Carmine e Anna De Filippo, Matilde Canzanella, Rita Cuccaro, Gianluca D'Amore e tutti gli ospiti qui presenti. E mi scuso se ho dimenticato qualcuno.